Senta sindaco sul tema dello stadio, la questione è similità di consultazione pubblica, se è buccata per un regolamento, poi le forme possono essere varie, non è un po' di cibo, è un regolamento, quindi come tutti i regolamenti non vanno rubricati, i regolamenti non possono essere attrattati alle 5G, i modi sono tanti, la mia posizione è che io sono disponibile a discutere su come, quindi per esempio su come utilizzare gli onero in urbanizzazione, ma non sullo stadio sì e lo stadio no. Se poi vogliono fare un referendum è nella disponibilità dei consiglieri, rimane il fatto che noi qui parliamo senza il terzo incomodo, il terzo incomodo sulla squadra, è inutile che parliamo tra di noi, ma lo stadio è fatto per le squadre. Ma sindaco si riuscirà a parlare con i cittadini anche alla luce di questa bocciatura tecnica della delibera che avrà pensato? Ma le forme sono tante, però dipende, il problema è se stadio sì o stadio no, io mi fermo, sto a guardare, perché è due anni, io ci ho provato, magari non sono proprio capace io di convincere le squadre a lavorare su San Siro, però questa è la realtà, quindi io non sono disponibile a partecipare a una discussione che metta, lo metta ancora in discussione, quindi vediamo. Grazie. Grazie.